Allora attenzione bene quando parlo di attacco su attacco, vuol dire non simultaneo che ognuno guarda l'altro e lo aspetta, allora succede questo. Siamo in stessa? Però si sa che è arrivato prima e è arrivato prima, rischia anche di farsi male. Bisogna cercare di lavorare e di percepire la puntata attacco dell'altro.